Musica 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 il fondo è gestata la deviazione di Giezo, grande intervento, Giezo è uscito su Kudos riesce a mettere in centro, colpo di Giezo, con la scena di Giezo, con il filo da Kessic, con il filo da Kessic, con il filo di piazza, vicinissimo al ragione del Napoli, spinta di destra, fai l'alto di Giezo, tra l'altro, si ha trattato un po' di avanti Giezo è importante ora il Fio cerca di farti saltare gli avversari, ora il Fio cerca di farti saltare gli avversari, bravo, l'osta come un leone, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.